Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Non potranno più assistere ad alcuna manifestazione sportiva per otto anni. D'aspo, per 14 tifosi, altri sei hanno ottenuto la stessa limitazione ma per cinque anni. E' quanto stabilito dal questore di Teramo sia per i fatti di domenica scorsa a Roseto, dopo la partita rosetana-città di Teramo, sia per le due aggressioni all'ex presidente del Teramo, Franco Iachini. Due momenti diversi, cioè alla Sagra di Ioannella e all'Enoteca. I d'aspo interessano 16 tifosi Teramani e 4 rosetani e comprendono anche i supporter già arrestati. Uno degli ultra è anche coinvolto sia nella vicenda di Iachini che in quella di Roseto. Il questore ha voluto anche ringraziare il determinante supporto dei carabinieri. Un provvedimento definito severo dallo stesso questore Lucio Pennella. Una risposta severa perché gli episodi di per sé sono stati, a mio parere, gravissimi. Quando si attentano a quelli che sono i valori dello sport, allontanando la gente dal campo di calcio, dagli stadi, dalle strade adiacenti agli stadi, quando questi episodi sono tali non possono che meritare una risposta severa. E quindi sono dei provvedimenti molto duri, perché allontanare per otto anni non è poco, insomma, a parte l'arresto in flagranza di ferita nelle 48 ore dopo gli eventi. Il questore per il momento esclude che si arrivi a giocare a porte chiuse per il Teramo. Anzi, bisogna invece ritornare con serenità allo stadio, allontanando queste frange. Noi lo facciamo applicando le norme, con i poteri che mi sono consentiti dalla legge. Gli altri lo possono fare veramente riparginandoli, perché se sono in minoranza non vanno lontano. Il mio auspicio è che invece si creino dei leader moderati, tranquilli, sereni, che fanno in modo che la società, non chiedo scusa, che il gruppo Ultras cresca, e cresca in maniera positiva. Grazie.